no ma... no ma hai già ispezionato no questa no mi ha detto al giovanni la prossima volta che ci sono io andiamo insieme no no vedi che c'è su tutti i cosi per tenere i muri no no oh allora cazzo mi tiri anche i legni in discesa porca trota porca loca in salita in salita i sassi va bene in salita in salita in salita in salita in salita uno dentro non ah no Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Adesso qua vi voglio, qua vi voglio tutti i tornanti, tutti, tutti. Partiamo da qua, risettiamo.